Grazie a tutti Il giorno fa anche con Bonafede e Di Battista che sono intervenuti qua a Radio Toscana Il vostro problema è che con questo ricambio continuo uno conosce, noi conosciamo tutti Bonafede ma ormai Bonafede non c'è più Quindi lei ribatte da zero Sì, sono un perfetto sconosciuto alla massa E questo è un problema, no? Sì, ma si supera anche facilmente facendosi vedere nei territori, negli eventi Ora martedì sarò presente anche alla 7 per la prima mia uscita a una tv nazionale Grillo lo consente ormai alla tv? Certo, assolutamente Alla 7 che fa? Dove va alla 7? Che trasmissione? All'aria che tira, io tra l'altro non ho la televisione da sei anni e per me è un po' un problema ambientarmi in quelle situazioni Vabbè, intanto però Ascolto più la radio, veramente Bravo, si muove sul territorio toscano, no? Sì Quali sono le parti della Toscana che ha abbazzicato di più negli ultimi tempi? Ma guarda Mi diano la costa Sì, la costa perché incredibilmente la Toscana è l'unica regione in Italia che ha tre aree di crisi complessa Piombino, Livorno e Massacarrara E diciamo tutta la zona litoranea e le periferie sono state dimenticate dalla politica regionale di questi anni Che ha sofferto un po' una sindrome della città metropolitana cosiddetta C'è un po' tutti i fondi e tutte le attenzioni sono andate nell'area metropolitana ferentina Si figurano di Firenze ci sembra non c'è più nulla Ma siete più felici? No, non siamo felici, ci manca il dramma, ci manca tutto Nonostante tutto, nonostante tutto anche quello non ha funzionato E sì, stiamo girando i territori e ci stiamo facendo conoscere giorno dopo giorno Salutiamo Pierandrea Vanni, ciao Pierandrea Ciao, buongiorno a voi Allora, Pierandrea Vanni, insomma, che è un editorialista della Nazione Ma soprattutto è un nostro caro amico Caro Pierandrea, tu che sei un osservatore attento Come giudichi la campagna elettorale dei 5 Stelle di Giannarelli qui in Toscana? A me sembrano un po' meno aggressivi di altri 5 Stelle da qualche altra parte Tu che dici? Mi sembra che abbiano privilegiato, non vorrei dire giustamente Ma non voglio assolutamente entrare in casa altrui Hanno privilegiato i temi concreti Le cose che a loro giudizio non vanno in Toscana Quindi mi sembra una campagna un po' realistica Anche perché me lo consentirà il candidato 5 Stelle Senza fare accostamenti politici Se avessero scelto un po' una certa linea Che in certe circostanze usano dei toni alti Sarebbero sommersi da chi invece Da quello che si sta dimostrando il grande urlatore di questa campagna elettorale E mi riferisco evidentemente al leader della Lega Quindi in qualche modo questo tipo di temi che hanno scelto E come li pongono Mi sembra che è anche un modo per differenziarsi notevolmente Parlo sul piano della comunicazione Ora guarda per Andrea Io Giannarelli ce l'ho qui di fronte La prima volta lo vedo Non mi sembra il fisico du rol dell'urlatore Mi sembra una persona a modino Ecco, mi sembra che anche per questo Io l'ho visto solo in fotografia Ma mi sembra che anche per questo Probabilmente non è questo l'aspetto più importante Hanno scelto una linea Diciamo di realismo politico Considerato che poi la Toscana Con tutti i suoi preci e i suoi difetti In genere non è terra di urlatori Ecco Giannarelli Allora andiamo sul concreto Lei domani è eletto Presidente Regione La prima cosa che fa Allora ci sono una serie di iniziative La prima è puntare sul turismo Oggi la Toscana è la sesta regione in Italia Per afflusso di turisti stranieri Quando ho saputo questo dato Questo indicatore qua Sono svenuto Ebbene, effetti Per me è inamissibile La Toscana è una terra ricca e stupenda E possiamo diventare primi Puntando seriamente sul turismo Possiamo creare occupazione di sostenibilità e di qualità Puntare sul turismo Vuol dire anche puntare sulla qualità dell'ambiente Perché le cose sono strettamente collegate Vuol dire puntare sulla mobilità Mi ha colpito tantissimo Uno studio dell'Università Bocconi Bacchettava Pisa Dicendo signori pisani Qua oltre alla torre non sapete offrire nient'altro Non avete un sistema di connettività Della mobilità I turisti arrivano Non sanno come Soprattutto quegli anziani Non sanno come raggiungere il centro città Ecco lì ci giochiamo a una partita importantissima Noi ci crediamo Puntare sul turismo Vuol dire puntare anche sul sistema di trasporto pubblico locale Giannarelli mi sembra Livornese Non lo è Non lo è Non so che non lo è Questo bacchettato a Pisa Mi sembra un po' Livornese Posso fare una domanda? Eh se vi è apposta Ecco grazie No volevo dirle Su questo discorso del turismo Non so se voi avete preso in considerazione Una realtà Cioè la Toscana Continua ad essere quasi esclusivamente La Toscana di Firenze Siena Eh in parte Pisa Cioè di pochi Importanti Importantissimi Come Firenze Centri d'arte Dobbiamo ripartire dalle nostre splendide spiagge Abbiamo delle spiagge tra le più belle del mondo Io ho girato tanto il mondo Ma devo dire che Tra la spiaggia di Sansona L'Isola d'Elba Cala Violina Grosseto Le spiagge del litorale Della Versiglia Baratti Però sapete anche E mi scusi se vi interrompo Sapete anche che non ci sono più strumenti operativi Per fare promozione turistica In Toscana Le APT sono state sciolte Toscana promozione è un'altra cosa E poi probabilmente non si sa ancora Se delle intenzioni Dell'attuale gestione della regione continuerà I comuni non hanno una lira notoriamente Per fare promozione Le province che facevano un po' di promozione Non hanno più questa competenza Quindi vi siete posti Immagino anche il problema di Chi fa promozione Oltre al problema delle risorse Certo Assolutamente sì Si tocca uno dei temi centrali per la regione Che è quello della formazione E quindi di riflesso anche quello dei fondi europei Noi come italiani versiamo quasi 16 miliardi di euro all'Europa E ne riusciamo a prendere poco più di 9 Perché non siamo in grado di mettere sul tavolo europeo Dell'euro progettazione Allora lì sulla formazione possiamo fare tanto anche per il turismo Perché se mettiamo in campo Dei percorsi per l'autoformazione All'autoimprenditorialità Alla promozione via web delle imprese turistiche Alla formazione delle lingue Siamo un paese dove abbiamo dei doppiatori bellissimi Abbiamo tutti i film doppiati in italiano Ma io stesso guardo i film in streaming Sottotitolati in inglese per imparare l'inglese E questo è un aspetto che tocca l'accoglienza Tocca l'aspetto del turismo Lì con la formazione possiamo fare molto Ecco io vorrei spostare anche riflettori sull'occupazione Perché la Toscana vuol dire che sta un po' meno peggio Del Reviso d'Italia ma non è che stia bene E mi pare è così Che la prima richiesta che arriva dal popolo della Toscana È quella del lavoro Non so se lei ha avuto questa percezione Assolutamente È una tematica estremamente importante Io poi vengo da una storia di Sono una partita IVA Un piccolo imprenditore artigiano Quindi conosco bene anche la precarità del mondo del lavoro E lì non si può fare tanto La regione può fare tanto Avendo una visione di insieme Una visione di insieme vuol dire Non sottovalutare tutti gli aspetti Vuol dire quando si parla di rifiuti E si cita un dato scientifico Ogni milione di tonnellate riciclata Si creano 2000 posti di lavoro Non vuol dire che la risposta c'è solo Con un piano del riciclo regionale Ma quello è un tassello fondamentale Allora noi dobbiamo sommare Tutte queste buone pratiche Buone strategie E porteranno a dei risultati positivi Ci fare bisogno Volevo chiedere al candidato presidente Giannarelli lei è piaciuto a Vanni Perché generalmente gli altri si addormentano Invece oggi proprio è stimolato C'è un po' di novità per lo meno Volevo chiedere due cose veloci Una volevo ritornare sul discorso del turismo Che lei ha parlato anche di mobilità Lei sa bene che in Toscana c'è un problema di infrastrutture E sa anche bene che al di là di tutto Alcune di queste infrastrutture non si fanno Per una serie di opposizioni Che possono avere anche alcuni fondamenti Ma a volte appaiono abbastanza dilatorie Primo e secondo Così poi dopo lascio interamente La parola all'amico Guerrini Secondo le volevo chiedere Se voi nel Consiglio regionale Dove sicuramente sarete presenti Intendete un po' seguire la strada del Parlamento Cioè un po' soli contro tutti O pensate che invece a livello regionale Appunto nell'Assemblea del Consiglio regionale Potreste tenere un atteggiamento diverso Sia nei confronti della maggioranza Che verrà fuori alle elezioni Sia delle opposizioni Vanni è un po' È della Prima Repubblica Quindi non sa che lei La linea politica la deciderà sul web E quindi farete un sondaggio La decidiamo dal basso Però Avrà le tue idee Non credo che anche Ma lui è un portavoce Non è un politico come quegli altri Quindi lui ha le sue idee Ho le mie competenze Che metto a servizio Di questo bellissimo progetto Vanni secondo me Centra uno dei punti fondamentali Vedi Guerrini? Ho centrato Vedi Scusi Tra me e Guerrini C'è un confronto Molto No Vanni mi ha insegnato a me Quindi Vanni mi ha insegnato male Andiamo avanti In Regione replicheremo L'attività che facciamo in Parlamento C'è dura opposizione Per le iniziative Che vanno contro L'interesse dei cittadini E dell'ambiente Ma siamo aperti A sostenere Qualsiasi buona proposta Che arriva nel tavolo istituzionale Cioè Se domani Chiunque vincerà E ci aspetteremo Che questa cosa Facessero gli altri Nel caso vincessimo noi Viene messo sul tavolo Un piano Per i rifiuti zero Che dice No all'inceneritore di Casa Passerini Noi lo votiamo Vabbè grazie Come sa me Se un tifoso da Juve Dice No non sono maggiori partite Io sono d'accordo Se certe cose Non siamo disposti a trattare Non è che Dire no all'inceneritore Vuol dire Vabbè allora qualcuno Ci va bene Su alcune posizioni Ci vogliono Delle scelte coraggiose Sulle quali Non siamo disposti A trattare E su altre Si fa la classica Diciamo Come dire Opposizione politica Vediamo le infrastrutture Perché Rossi Che insomma Allora Facciamo una breve pausa E poi torniamo Ancora in onda Con Radio Toscano Notizie Per Andrea Vanni Al telefono Qua in studio Gianni Giannarelli Giacomo Giannarelli Candidato alla presidenza della regione Per il Movimento 5 Stelle Si stava parlando Di infrastrutture Perché Il presidente Rossi Che potrebbe riesce Il presidente Mettiamolo in conto Perché l'è strafavorito Insomma Su queste infrastrutture Sta puntando molto Ha detto Che se non fanno La tirrenica Si sdraia sull'Aurelia Che ci vuole l'aeroporto Ce lo dica A meno No no Oddio No no Ci fermiamo subito prima Perché se Lei vuole arrotare Rossi Si può Facciare il giornale Ma Allora faccio Senta no Le voglio dire invece Io per esempio Faccio un caso mio Ora dopo Devo andare a Ponsacco Entro sulla Firenze Fisalivorno E tocco ferro Perché ci potrebbe Mettere 40 minuti O 4 ore C'è effettivamente Un problema O è una cosa Come dire Chi vuole asfaltare la Toscana E cattivi cementificatori Il problema della Toscana È il traffico Esatto Un po' sì No ci sono dei problemi Però bisogna capire dove Tipo Pierandrea sta a Sorano Per arrivare a Sorano Cioè io vado a vedere La Fiorentina a Siviglia Ci metto meno Che da un certo punto di vista È anche un po' il loro bello Di che fossero isolati Al mondo So se Pierandrea è d'accordo No direi che non è assolutamente d'accordo Ci vuole il giusto equilibrio Siamo in un momento Dove le risorse Vengono sperperate In grandi opere Che sono sempre oggetto Di corruzioni E di sperpero Di denaro pubblico Per noi del Movimento 5 Stelle L'unica grande opera Di cui abbiamo bisogno È la somma di tante piccole opere In giro per il territorio Che vanno anche Dalla messa in sicurezza Del territorio Ma anche per esempio Dal raddoppiamento Di linee ferroviarie Elettrificazione di linee Di periferia Diciamo In contrapposizione netta Per esempio Oggi era un visita Al cantiere della Tava Di Firenze Sono otto anni E sono all'otto per cento Dell'opera Dopo otto anni C'era un progetto Delle università di Firenze Che con soli Trecento milioni di euro E in soli cinque anni Ne avremmo fatto Un trasporto di superficie Perché non è stato fatto Vuoi vedere Che la politica Quando le opere Costano un po' di meno E non ci si può infilare Con la corruzione Non dà lo spazio No È un sospetto Che ci viene Però sulla Tava Per esempio La Tava di Firenze È clamorosa Sono duplicati i costi Rispetto allo stato Avanzamento dei lavori Sono quintuplicati i costi Allora è lì Che dobbiamo intervenire I 4-9 ospedali Noi non abbiamo bisogno Di 4-9 ospedali Abbiamo bisogno Di ospedali Che funzionino No Secondo noi La Tava non serve Va messa in sicurezza Quella lì Per noi va messa in sicurezza Quella assolutamente Richiede degli interventi Che ci sono Dei buchi clamorosi Però al candidato Cinque Stelle Non certamente sfuggirà Che stiamo parlando Non significa Che il fatto Siamo passati tanti anni Che certe opere Bisogna farle per forza Ma non si può Nemmeno continuare A dibattiti Così Molto astrusi Per cui poi I problemi restano Della messa in sicurezza E l'Aurelia Parlò Il governo Amato Che come l'amico Guerrini Ricorda Risale Al tempo Delle C'era la lira C'era la lira Ce le ripresero Da conti Per i debiti Il problema Io personalmente Ho un'idea Mia Il problema È che non si è fatto Né la messa in sicurezza Né ovviamente L'autostrada Cioè Quello che Io penso Credo di pensarlo Soltanto io È che a un certo punto Delle scelte Vanno fatte E poi Certamente Si deve cercare Di fare le scelte Migliori E le scelte Che rispettano Anche per molti aspetti L'ambiente Tutto quello Che vogliamo Ma quello di cui Non se ne può più Che in Toscana Forse più che altrove Non si è Si continua Ad andare avanti In un confronto Che diventa Alla fine Inconcludente E sterile Fra posizioni diverse Sempre rispettabile Ma qualcuno Alla fine Dovrà pure Fare delle scelte Certo Io questo è vero E condivido Però facciamo un esempio Concreto Di ciò che è successo In passato Una volta Si poteva fare Il check in Dalla Era terribile La stazione di Firenze Però Non funzionava Perché quel treno Abbiamo parlato Poi fermava A Ponsacco Per la punta Però era un problema Di come era stata Studia la linea Però in sé Il servizio Era una buona idea Invece si è scelto Di smantellare Completamente la cosa Allora forse Qualche errore Nel passato È stato fatto Il territorio toscano Richiede Una serie di interventi Infrastrutturali Quando parlo di infrastrutture Parlo a volte Anche di rete elettriche Avemo dei problemi Di zone Che non si possono Allacciare Gli impianti fotovoltaici Alla rete elettrica Perché la rete Non supporta più L'immissore di energia elettrica Guardi allora Se vuole Lo dico perché Lo faccio per esperienza Però Che appena si va a fare Un piccolo elettrodotto Così si creano I comitati Dove dicono Che accanto agli elettrodotti Si muore di leucemia Ci sono le onde elettromagnetiche E su questo Si bloccano queste opere Ci vuole il buon senso E quindi Per esempio Magari voi 5 stelle Avete tanta redibilità Magari andate a spiegare A questi dei comitati Contro gli elettrodotti Invece di dirgli No vanno Che forza Contro le antenne Però tutti ci arrabbiamo Quando prendono il telefonino Ci vuole la giusta misura E puntare sulle opere Che effettivamente servono E poi soprattutto Chiedersi se Quest'opera qua Può essere fatta In un altro modo Nel mondo Come fanno Andiamo a copiare Le buone pratiche Con un po' di umiltà Va bene Allora Altri punti che lei Giannarelli Vuol sottoporre A nostra attentata Poi tornerà Perché c'è ancora Un sacco di tempo Però Non in questa trasmission Sanità per esempio Impegna più del 70% Del bilancio regionale Ci giochiamo tanto Noi entraremo Per fare trasparenza In queste grandissime spese Di soldi pubblici E siamo Per il superamento Del modello Dell'intensità di cura Di Enrico Rossi Noi vogliamo Perché negli ospedali Di Torino Non è una separazione Dei reparti Abbiamo un problema Dei posti letto Siamo molto sotto Il minimo previsto Dal decreto Balduzzi Che prevede tre vigore A qualcosa A posti letto Ogni mila abitanti E abbiamo bisogno Che gli ospedali esistenti Funzionino Non di fare nuovi ospedali Ahimè Sono già stati fatti Molti hanno problemi Anche strutturali Va bene Allora Giannarelli Uno Avremo presto Giannarelli due Pierandrea Grazie mille Alla prossima Grazie a voi Grazie Alla prossima Grazie Un saluto Giannarelli Lei segue il calcio? No Sono uno scarso E ne lo seguo Va bene Perché qui c'è anche un derby La mia ne ha detto Ovviamente allenandosi Mi piace il talcio ferentino Quelli dove si menano Ah va perfetto Bene allora Salutiamo Giannarelli Candidato alla presidenza Della regione Per il Movimento 5 Stelle Ci rivedremo presto Noi facciamo Una breve pausa E poi torniamo qui Con le altre notizie A Radio Toscana Notizie